3 mesi di sospensione e un'ammenda di oltre 100.000 euro e per Antonio Conte si chiuderebbe il capitolo calcio scommesse. E' infatti questa la proposta di patteggiamento avanzata dai legali dell'allenatore pugliese in forza alla Juve al procuratore federale Stefano Palazzi e che sarà valutata domani mattina davanti alla commissione disciplinare. Per Conte e per la Juventus sarebbe un sospiro di sollievo, dopo il deferimento ricevuto per omessa denuncia di presunte convine relativa ai tempi in cui allenava il Siena in Serie B. L'allenatore bianconero è stato tirato in ballo dalle accuse del pentito Filippo Carrobbio, ex giocatore del Siena, accuse però sempre respinte dal mister Juventino. Ma il patteggiamento è comunque la soluzione più comoda per la vecchia signora, che se lo ritroverebbe in panchina già dal 1 novembre è senza alcuna missione di responsabilità. Adesso il leader seguito da Antonio Conte potrebbe essere ad esempio per molti degli altri 44 tesserati che finiranno da domani a processo nel doppio dibattimento basato sugli atti delle procure di Cremona e Bari. La stessa Juventus sta esaminando le condizioni di Pepe Bonucci. Ma tra tutti gli indagati spicca Daniele Portanova, che esclude un suo patteggiamento. Infatti il difensore del Bologna in una recente intervista ha dichiarato «Non ho mai venduto una partita, non ho mai scommesso e sono innocente. Non patteggerò perché anche un solo giorno di squalifica sarebbe ingiusto. Quello che mi fa più male è che mia moglie è stata offesa e i miei figli hanno pianto perché a scuola dicevano loro che ero un venduto». Grazie.